Scusate, guarda lì, ma sto cercando di capire se suona un buco, speriamo. Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, allora oggi video molto casereggio e perdonate il casino, ma volevo assolutamente avere l'albero di Natale come sfondo e quindi è una postazione in cui c'è un po' di casino semplicemente, questo sarà un get ready with me a Natalizio, quindi come vedete il mio albero, dopo magari ve lo faccio vedere meglio, non so se sia completo, qualche riflessione ma non so se metterli, comunque è oro e rosso, quindi più o meno saremo così, trucco molto leggero, occhi, oro e rossetto rosso. Parto e faccio vedere l'albero, vederlo così effettivamente è un po' incompleto, vedremo, insomma, però l'albero ci mi piacciono tantissimo. Allora io comincio con il BB cream della Carnier, non la sto usando più, però il fondotinta della Bon Joir, che so di solito, è a casa, non sono a casa, quindi niente. ne metto pochissimissimo, giusto per uniformare l'incarnato e vado con le dita, vedete quanto ne metto, ok? Io vado con le mani e lo utilizzo proprio solo per uniformare l'incarnato. Scusate se guardo lì, ma lì ho lo schermino della videocamera e questo è il mio specchio per ora, quindi, appunto, ne uso di due tipi diversi. Questo è il correttore della Revlon, che mi trovo discretamente bene, che è più corposo e questo della Sephora che è illuminante, metto sugli occhiai, quindi questo è più un correttore, questo è più illuminante. E l'ho appena comprato e come effetto mi piace. Perdonate se ci saranno tanti toglie, ma la gente non sta a disinterno. Praticamente io adesso sono di, vi parlo un po', che adesso sono, è il, perché lo vedrete domani o dopo domani questo video, comunque è mercoledì, lo vedrete venerdì questo video, mercoledì 4, possibile, e voi vedrete questo video, il 6, e qui un terzo occhio, ovviamente. So che non vi abbia fatto, lo faccio solo una volta. Allora, adesso vado di... adesso faccio un attimo gli occhi, sarà un trucco veramente super semplice, perché ogni volta che mi faccio gli occhi mi vengono due patagoni così e mi sono rotta, quindi lo faccio semplice. Vado a usare, prevalentemente, un trucco nero, fondamentalmente ad usare illuminante e poi matita, ok? Quindi, dalla... No, prima metto l'illuminante. Vado a usare l'illuminante di Basic Gaia, quello che vi ricordate era caduto. Ecco, ho tenuto metà qui e metà l'ho fatta in un altro contenitore, perché ci tenevo troppo a verlo tutto. E questo vado proprio col pennello giusto ad illuminare la zona. Perché, diciamo che questo illuminante è fatto proprio leggermente più scuola delle mie. Quindi ha un leggero pigmento. L'inverno mi piace usarlo prevalentemente come ombretto proprio unico. mi piace un casino. E quindi si, ma sono proprio solo così sugli occhi con un casino di illuminante. Però mi piace se... E dopo, comunque, contro col pennello sporco, farmi illuminante sulle mance. E non so se riusciate a vederlo, è molto luminoso. E lo preferisco così che con le dita. La località diventa troppo presente. A me piace proprio un qualcosa che illumini tanto lo sguardo. Ok. Poi vado con la mattita nera. Io sono in lutto, ragazzi, perché... Già sto scherzando, però mi si è rotta l'unghia, vedete? Quindi mi sono andata a tagliare tutto. Non riesco a fare il tapping. Mi si è rotta proprio tanto. Ok, vado ad usare la mattita della Color Caramel, che è naturale più. E vado a andare all'interno dell'occhio e anche un pochino sopra, diciamo, vado a intensificare molto le ciglia, proprio per dare una base già al mascara. Ok. Torno... Cioè, non so, adesso vedo se tenere questo o no, perché in realtà, non so, si sentirà qualcosa. Vado con il mascara. Io uso... Puppa Pamp. Non compro la recettamente. Non ho deciso se comprarla, che è marrone. Cioè, vedete che mi vedo identificato con il tapping? Non mi capito così mai. Perché sono molto forti. Prima del mascara, però, mi sono scordata di mettere un nuovo prodottino. Ho fatto un nuovo acquisto. Ci ho investito un po' su. Io ho preso il Kimmy Brow della Benefit. E non so ancora cosa pensarne. L'ho preso molto chiaro, però trovo che comunque mi intuisca tanto lo sguardo, quindi lo metto a volte. Adesso vedete la differenza. Cioè, vedete, comunque, forse metto un po' troppo prodotto. Non lo so, vedete che questa sopracciglia è molto più presente. Non direi più scura, proprio presente. E non sono convinta che sia un effetto che mi piace. Cioè, a volte, quando sono molto truccata, sì, se no, no. Diciamo così. Tra l'altro, se mi sta guardando questo video sotto, anche la ragazza della Benefit che mi ha consigliato questo e che mi seguiva, è stata molto carina. E ho preso questo prodotto, in realtà, è molto carino. Ho preso il numero 3, perché mi fosse interessato. E ho preso questo prodotto, perché i mascara per gel sono l'unica cosa che riesco a usare, perché sono troppo impedita e non ne voglio, ed ho un effetto ancora più. Vado col mascara. Lo so, l'ho un po' fatto. Scarico un attimo. E spero di non far casino, perché io, mi giuro, nove volte su dieci mi manco gli occhi. Io ho veramente impedito i livelli marziani. Non ho manchiato l'occhi. E mi sono messa bene il mascara. Non mi sto truccando molto bene, ma non sono nella postazione più comoda del mondo. Ok, quindi questo è quanto per gli occhi. 1, 2. Per quello di Sephora è un po' concorrente. Diciamo che va molto bene. Per un effetto naturale di quanto non porto il fondotinta, cioè il 99% delle volte. Cioè, quasi io porto il fondotinta solo quando indosso i video. Quando mi trucco per i video e quando faccio i gettori dei video. E clicchiai lo stesso. Allora, come blush vado a usare uno della Puro Bio. Non so il numero, non so il numero, dovrei guardare dietro la giallina. E non vorrei usare questo. Questo è un po' più freddo. Però quello che vorrei usare delle portraits di Enrichi Oba. Magari mi metto un'immagine qui se riesco. Non ce l'ho qui. Quindi niente. Che è molto più caldo e molto più adatto. Adesso ne faccio un make-up caldo. Ho metto il blush e il freddo. Come sapete, io con il blush abbondo. Sia perché tanto troppo, giusto di me, un fondotinta, un fondotinta, eccetera. Tutti, dico, tutti i blush spariscono. Io poi li mangio. Scusa. E mi metto tanto. E poi a me proprio piace che il blush si veda. Piace l'effetto del blush. E quindi il mio viso, il mio gusto. Guardate quanto è il mio uso comunque. È un po' scomper, mi è costruito. È l'estate. Ma mi piace così tanto che non riesco a non metterlo. Non so se si percepisca. E poi, bellissimo, voglio mettermi un rossetto rosso che dopo mi toglierò perché è veramente troppo per stare in casa. Vado a mettermi Rubiu della MAC. Che è il rosso molto bello, però non voglio comprare più da MAC perché adesso voglio animali. E non mi sta bene. Ci sono tanti rossetti buoni anche che rispettano gli animali. E però, di mio, per questo video, se questo non fosse un po' difficile, poi da togliere, un po' più rognoso da togliere, userei. Il Fluid Velvet Matte Lipstick della Deborah Milano nella colorazione 7, che è stupendissimo. Sia il 6 che il 7 sono bellissimi. Effetto velluto pazzesco. Però, prima, bevo un pochino della mia tisana che avevo qui. E perché non va bene poi col rossetto. Me lo sono scrotta lì. Questa è una tisana digestiva. Vediamo pure questo che mi è un po' andato così. C'è un po' di casino. Io davvero mi dispiace tantissimo. Comunque, adesso vi dico anche una cosa che mi fa troppo ridere. Praticamente, io negli Stati Uniti, adesso ve ne faccio vedere uno. Negli Stati Uniti, ho cercato, che sono la patria del consumismo, mi sono detta, c'è comunque in cui non viaggiando. E me ne rendo perfettamente conto. Cerco magari di non fare troppo shopping clean. E quindi, se è entrata la Sephora comunque, tra l'altro pioveva. E ho detto, quando sono andata a New York, scusate. E allora mi sono detta, dai. Mi sono andata davvero, prendo un ricordo. Che sia anche una cosa di make-up. Dico che trovo negli Stati Uniti e non trovo in Italia. E quindi avevo sentito tantissimo parare di questo padmecrav. Di questa padmecrav. È un padmecrav. Pad, 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 pad. E avevo che vedeva tipo dei pandol da 3.000 lossetti a 25 dollari. Mi sono detta, dai, vabbè, prendo questi. Indovinate le due settimane dopo. Che pararei ad arrivare in Italia. Da Sephora. Anche nella mia città. Con lo stesso set. Cioè, io ero lì. Ho preso come un segno. Non dovevo comprarne anche questi. Veramente, cioè, io non avevo parole. Vabbè, tra l'altro non mi fanno neanche impazzire. Sembrano... C'è stato schifo? Non lo so. Questi tipo mi sembrano quasi... Cioè, non mi sembrano tutta questa qualità che viene idolatrata. Però, ripeto, li ho comprati negli Stati Uniti. In un certo Sephora. E quindi, non lo so, magari li rallita un po'. Questo non lo posso sapere. Quindi non posso ridicarla qualità. Questi rossetti. Tra l'altro non so che inceppia questo. E quindi, magari, è uguale. Cosa probabile. Ok, dopo queste chiacchiere, ultimo gozzo della tisana. Andiamo a mettere il rossetto. Lo vado a mettere prima. Due, tre sono i falsi, uno muro, dai, così. Devo far finta di fare un video di ASMR. Ok. 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 vediamo Ok, e vado prima su tutte le labbra e poi vado a definire i bordi con questo. Che schifo. Alzi la mano a chi è impedito a mettere il rossetto. Yes. E vado col pennello a cercare di riparare un attimo la situazione. Alla prossima. E ultimamente nella parte sopra ando sempre un pochino ad andare fuori i bordi. Perché come vedete ho il labbro sotto che è molto più grande del labbro sopra. E soprattutto con i rossetti appunto non nude mi rompe che sia accentuata questa differenza. Quindi vado proprio con un pennellino. Quindi non con l'interno rossetto ma con un pennellino. Tra l'altro i rossetti rossi piacciono un casino. Io non mi spiego come può esserci così tanta gente alle 11 di mattina in giro. E questo è quanto adesso mi sciocco i capelli e mi li spazzolo mentre vi tolopo la notte. La faccio così vado a utilizzare un po' troppo non potrei far troppi mi sento io. Non mi piace come rubo. Vado con questa specie di fecoltese. Non ho dei gran capelli in realtà penso che mi li troverò legati oggi però volevo spazzolarmeli perché penso proprio sia giunta l'ora di... abbassare le luci e augurarvi... E augurarvi... E augurarvi... E augurarvi... E augurarvi... a curar a curar una buona 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 no sognito d'oro sognito d'oro buona buona Buonanotte pasticcini, spero davvero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione super natalizio, super affettuoso e ci vediamo lunedì. Un bacione che li spera.